Buongiorno a tutti, sono Riccardo Merelli, ho 33 anni e sono un life coach anche se in queste settimane non sono stato il miglior coach del mondo in quanto ho peccato di procrastinazione e ho impiegato tempo a mettere in ordine le idee comunque credo che questa introduzione insolitamente sincera si possa adattare al tema che ho deciso di trattare oggi con voi ossia la responsabilità del life coach in qualche modo dal mio punto di vista diciamo che arrivati ad un certo momento è difficile non esprimere opinioni ho come la sensazione, soprattutto online, che il fatto di fare il life coach ci etichetti in qualche modo a dover rappresentare un certo ideale di perfezione ma la perfezione non è proprio degli esseri umani tutti noi abbiamo delle sfaccettature, dei pregi, dei difetti penso di elencare cose oggettive fino a questo momento e riflettendo su questa cosa, sul perché mi venisse rivolto questo carico a mio parere esagerato di responsabilità ho pensato e io e i miei colleghi non siamo affatto le uniche persone a lavorare a contatto con gli altri perché non pensiamo ad esempio ad un insegnante tutti noi siamo quello che siamo in parte anche grazie a dei bravi insegnanti perché non ho mai sentito dire ad un insegnante se un insegnante avresti eppure essere un insegnante è un lavoro di grande responsabilità anche se quando ben fatto può portare a dei grandi risultati quello che tengo a sottolineare e a ricordare in questo video è che anche il coach è un essere umano e trovo abbastanza surreale aspettarsi quello di riuscire ad essere un coach 24 ore su 24 nella nostra formazione al di là di tutta la parte di burocrazia, partita io eccetera ci è stato consigliato più che altro in una giornata di non prendere più di due persone è ovvio, è soggettivo dire che nessuno verrà a controllare se voi futuri o presenti coach accetterete tre clienti in una giornata ad esempio ma si tratta di un... stavo cercando la parola italiana ma non mi viene in mente, scusatemi un setting mentale che è difficile da mantenere in una stessa giornata per più di due persone alla volta in quanto come professionisti ascoltiamo sicuramente e facciamo del nostro meglio per ascoltare però anche ci estraniamo, mettiamo da parte i nostri pensieri le nostre preoccupazioni per accogliere il tema portato dal cliente e questo è un impegno soprattutto a livello mentale prima ancora di parlare di responsabilità quindi trovo che questa comunicazione oltre ad essere limitante sia estremamente aggressiva nei confronti di qualsiasi persona direi addirittura passivo-aggressiva sarebbe stato diverso ad esempio poter dire come mai un coach si rivolge in questa maniera a me e io vorrei risposto tranquillamente perché i coach sono persone non possiamo avere una mente libera 24 ore su 24 e pensare sempre e comunque a quale sia la frase e la parola giusta da dire non sta a me indicare cosa si possa nascondere in questo puntare il dito però credo che tutti abbiamo una responsabilità nel linguaggio social non solo morale ma anche penale perché in questo momento non ricordo la legge però ci tengo a ricordare un altro dato oggettivo ossia che la diffamazione a mezzo web è passibile di denuncia non sono ancora giunto a questi livelli per fortuna non sono qui per ventilare di adire le vie legali e se lo dovessi fare non sarebbe sicuramente consigliabile dirlo su youtube scusate per l'inquadratura ma oggi non riesco veramente a trovare una dritta che mi soddisfi bene siccome non avevo molto da dire approfitto per fare una veloce ricapitolazione dei servizi in questo momento ho in carico una persona e per ragioni fiscali diciamo che c'è posto solo per altre due persone che volessero iniziare subito vi chiedo un attimo che voi non vedrete e faremo una riepilogazione dei servizi che posso offrire eccoci qui allora per correttezza vi dirò anzitutto che esistono dei colleghi che si occupano anche del lavoro io in questo momento non ritengo di avere l'esperienza necessaria per aiutarvi nella ricerca del lavoro giusto per voi esiste questa possibilità mi limito quindi ad elencare gli altri servizi per i quali sento di potervi aiutare maggiormente autostima talento e potenziale gestione del tempo semplificazione della vita miglioramento delle relazioni comunicazione efficace ed assertività self care e benessere mi permetto inoltre di segnalare che grazie alla accademia della felicità di milano ho potuto fare un corso autonomo di specializzazione in coaching delle relazioni per cui se sentite che quello che c'è in questo momento nella vostra relazione vi richiama fa sentire la necessità di essere cambiato non darò consigli perché nel coaching non ci sono i consigli ma cercherò di aiutarvi con i mezzi che ho a mia disposizione sia come persona ma soprattutto come professionista per informazioni e prezzi vi chiedo di contattarmi in privato sui social che trovate in descrizione io vi saluto spero che questo breve video sia stato comunque il vostro gradimento e ci vediamo alla prossima ciao ciao